Ma chi è il cane? Realmente è un animale che nasce per soddisfare le esigenze dell'uomo? Quando una mamma partorisce i suoi cuccioli, veramente li fa perché poi vengano divisi e vadano a far parte di famiglie diverse? E' più il cane che fa comodo a noi o noi che facciamo comodo al cane? Mi raccomando, non mancare a questa diretta che io farò lunedì prossimo dalle 19 alle 20. Ti auguro buon weekend, ciao! A presto!